Fere, ho deciso di concederti una cosa che vuoi da tantissimo tempo Ho deciso di concederti la possibilità di andare in guerra con un tuo carri armato Che bello! Però Fere ti devo dire una cosa Ci saranno altri carri armati Non sarà facile come su GTA V Ti devi preparare e dovrai massacrare tutti A posto, a posto, sto già prontissima So già cosa fare qui Non c'è problema E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Stef e chiesto di come World of Tanks Ebbene sì, siamo qui su World of Tanks Io ne sono felicissima Siamo stati contattati dalla War Gaming Ovviamente questo è un video sponsorizzato E non ho saputo dire di no Lo sapete che se ci sono di mezzo carri armati o guerre Io sono schierata in prima fila Prima fila Fere Niki Consoli, lo sapete Io ci ho provato in tutti i modi Glielo ho detto Ma guarda che è un gioco difficile Sì, ci sono i carri armati Ma gli altri lo sanno usare bene Sono precisi A lei non gliene frega nulla E dicendo che io non sono esperta di carri armati Sì, e secondo me morirai miseramente insieme a me Consoli mi sta insultando Però vedremo dopo Ci penseremo dopo In ogni caso, questo gioco è completamente gratuito Quindi lo potete scaricare Potete giocare anche voi Mettiamo in descrizione il nostro link per scaricare il gioco Quindi se vi piace provatelo anche voi E inoltre gli sviluppatori del gioco sono stati così gentili da darci anche un codice speciale per voi consolini Che vi permetterà di fare uno start fighissimo Perché vi darà 7 giorni di premium 500 gold Un carri armato fighissimo E anche un posto nel garage per il vostro carri armato ovviamente Da qualche parte bisogna parcheggiarlo Quindi mi sembra normale In ogni caso, prima di iniziare Se appunto volete sfruttare questo codice Dovete metterlo quando vi state registrando C'è una sezioncina piccola 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 Che dice tipo Ho un codice da utilizzare Mettete lì il codice E automaticamente riceverete tutte le cose che vi abbiamo detto Io direi che fare Siamo prontissimi Sì non vedo l'ora Non vedo l'ora Ho selezionato un carro armato che mi piace tanto 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 E l'ho anche modificato esteticamente Anche io poi lo vedrai Perché Voi non ve lo aspetterete mai Ma i carri armati Bisogna mimetizzarsi nei cespugli Perché altrimenti Vi bombardano e vi massacrano Quindi ho fatto Un carro armato adatto A nascondersi nei cespugli Ottimo Sembra ridicolo Ma è davvero così E funzionerà per vincere Bene Ci siamo Che bello Che bello Sei pronto Io sono felicissima Sono troppo troppo felice Allora Hai qualche piano? Andiamo No Come no? Però andiamo alla sinistra Ok Mi piace la sinistra Perché siamo vicini alla sinistra È una tattica infallibile Ferre Nessuno lo farà Ok se lo dici tu ti seguo Allora Perché te l'ho detto Tu quando mi hai parlato di nascondersi Non è che sono così tanto d'accordo Cioè io vorrei andare Fare esplodere Perché non Non provarci Perché Ti giuro Perché non mi danno mai la possibilità Di far esplodere tutto Mianchesi che sei già esplosa Quindi Fidati Nasconditi insieme a me Segui le mie tattiche E poi non ho la mimetica Perché non ho la mimetica Che ero perfetta Non è giusto Ok dai ci sono Fai silenzio che siamo già In zone pericolose Ok Ok Io mi nascondo in questo cespuglio Guardate Così non mi nota nessuno Ecco mi hanno già visto Non so bene da dove Ma mi hanno visto Ferre Andiamo alle spalle Ma no Hai detto che volevo andare alla carica Andiamo alle spalle Sì però aspetta Mi devo un attimino ambientare qui Occhio davanti a te Dove Davanti a te Ma lo vedo Aspetta mi nascondo E mi metto dietro lo sparo No Ferre Pensa a sparare basta Ti aiuto L'ho mancato Dannazione Cavolo non lo vedo Sta scappando Sta scappando Ha un po' di paura Lo vedo che scappa Ok è tutto storto Lo miro 3 2 1 Fuoco E non l'hai preso E no perché È corazzato Aio Mamma mia No no attento Arrivo arrivo ad aiutarti Ferre veloce Che se no mi ammazza E vabbè aspetta Non è che sono così veloce Arrivo 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 Ti prego non mi uccidere Ti spacco la faccia Non toccare Steph Ti prego Ti uccido Non hai capito Chi è Ferre Non l'hai capito Ti ha ucciso No sono vivo Sono vivo Ritirata Guarda sta andando Columela sta andando al posto nostro Vai Gli ha fatto un sacco di danno Vai Columela Sei bravissimo Sei tutti noi Sei tutti noi Io ho 36 di vita Come come Sì Oddio non sono messa bene Ne anch'io Ne ho metà Eh lo so Ci ha distrutto Uno contro due Spettila di prendertela Appena sparato Ed è molto lento Quindi teoricamente Posso uscire fuori E sparare un colpo Ok faccio il giro Perché no mi sta facendo Troppo male Scopo Allora lo stiamo cerchiando Ce la possiamo fare Ok devo aspettare che spari È molto lento a sparare Sfruttiamola Appena vedi che spara un colpo Usciamo fuori e lo colpiamo Ok ok ci sto Ok Appena sparato Andiamo andiamo Tutti la carica Distruggiamola adesso Ferre Altrimenti siamo morti Ok Fuoco Ok Di giro intorno Ok Bravi Gli ho fatto danno È praticamente morto Mi sta puntando No 2% Vai vai Qualcuno Qualcuno che spari Devo ricaricare Aspetta Dai non l'ho preso Yes Mamma mia Hai ucciso tu Sì Bravissimo 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 Ok Stiamo andando bene Ferre è l'1% Non è vero Non è vero Da dove eri mazzo Oddio oddio C'è un altro Non l'ho Dopo che era andato E mi hanno ucciso Ferre Ehi Ferre Sono molto più Gigante di te adesso Che bello quello che hai preso Che cos'è un corazzato Ho fatto un ragionamento Dato che quello era super figo Con la corazza gigante Me ne metto anche io Uno con la corazza gigante Allora anche io ne sto provando un altro Ma non sono corazzata Ok È molto simile a quello che avevo precedentemente Allora Allora Dobbiamo andare verso lì Ok Ferre Dove andiamo? Seguimi Ok ti seguo Anche se forse sarebbe utile seguire Quelli che sanno giocare per una volta Però segui a me Allora Stanno salendo lì sopra Vedi dove c'è il faro? Se mi riliscono Ve li colpiamo Aspetta Appena sbucca fuori Ferre Ah Aia Ti ha preso? Sì A me no però Aia Occhio 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 Ah no mi hanno fatto zero danno Te l'ho detto Però a me Che bello essere corazzati Aia Basta però Che che non prendo danni Ma qua state esagerando un po' È normale che si punti proprio il corazzato Secondo me Allora Io mi nascondo in un cespul Aia mi vedo Ecco lì sopra nel faro Lì sopra nel faro Ferre mira Mi stanno sparando da ovunque Non riesco a vederli Non è una buona posizione Dobbiamo nasconderci dietro le case Sì 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 Hanno le montagne che li coprono davvero bene Torna indietro Torna indietro Un morto a testa per ora Quindi è una partita ben bilanciata Ok Ecco Mi sono trovato un nemico davanti Ok spariamolo Spariamo tutti Miro Fuoco 446 di danno Miro Ricarico È dietro un albero Non riesco a mirarlo Aia Nevate i migli alberi Allora mi aggiusto Oh no Ah Ferre Sono molto in difficoltà Arriva 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 Sono molto in difficoltà Mi devi dare una mano Ci provo ci provo Sta scappando sta scappando Al 59% Però secondo me ci stanno sparando anche dall'alto Non era solo lui Sì 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 anche secondo me Perché abbiamo anche l'alleato in mezzo Fuoco Ok 400 di vita tolti Ok è il 14% Dai 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 Ce la facciamo Cerchiamo di proteggere il nostro alleato però Sì sì infatti sto cercando di stargli molto dietro 5% Di aiutarlo Due secondi posso sparare Inizio a mirare 3 2 1 È morto Ok Qualcuno scende questo al 5% Dove 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 Uccidiamolo uccidiamolo È dietro qualcosa È dietro Dietro qua Dietro qua Non me l'ha colpito Dannazione Ce la faccio Ferre c'è un altro Dove Aia aia che male Lì in alto in alto in alto Dove c'è il faro Si è nascosto però Dannazione lo devo investire Lo ammazzo investendolo Ma come no no È l'unico modo da fare Aspetta 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 Allora Vieni qua Ok Hai paura bello Guarda come si nasconde Con il suo 5% di vita 3 1 Addio Ok Ok Bravi 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 È morto Sì Oh no Perché c'era pure quello dall'alto Eravamo posizionati male Eravamo posizionati male Dopo quella kill Dovevamo tornare indietro Invece che andare avanti Perché ci siamo procurati Troppi nemici Sia davanti che in alto E diventava impossibile E Ferre praticamente Lì nel faro Sbucca Ti colpisce E se ne va Sì sta cercando di andare via Uno ti sta seguendo Eh lo so Lo so Quindi fra un po' girati E sparalo Perché tanto ti ammazza Girati Girati Dimmi che fa in tempo Ok Gli hai tolto vita Gli hai tolto il 21 Non ce la faccio però Ok Continua a correre così Esatto Al contrario Esatto Ok E al 39% di vita Non ce la faccio Sì al 4 Fere Non ce la faccio Continua a scappare Aiuto Corri Fere Uh ti hanno mancato Gigo zago Gigo zago anche col carre armato Gigo zago che nessuno solo aspetta Che un carre armato Possa andare a zig zag Pensa al 33 Al 33 Sta avanzando Ah lancia che mi stai mettendo Vai Fere sparalo Ok Torno indietro È morto È morto È morto È morto Però è morto Però è morto Ho resistito Con onore Fino alla fine Fino all'ultimo colpo Allora Noi li abbiamo lasciati 7 kg a 7 Quindi Se perdiamo È colpa degli altri Perché noi abbiamo fatto una battaglia Noi abbiamo fatto del nostro meglio Valorosissima Alla fine i nostri alleati Hanno perso anche quella partita Ma come si può Proviamo una tattica Perché non c'eravamo noi È solo per quello Beh insomma Noi li abbiamo fatti perdere Noi zitto Zitto Allora volevo dire Che proviamo una tattica Diversamente intelligente adesso Ok Abbiamo preso i carri armati Più piccoli e veloci Che esistono nel gioco E proviamo a soreciare Nelle difese altrui Ok Fere Ti piace come idea Praticamente Steph Prima di iniziare questa partita Mi ha guardato E mi ha fatto Guarda Tu con questo carri armato Devi prendere Correre intorno Perché gli altri sono lenti E non riescono a fermarti E sparare 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 Se lo dici così Suona male Eh ma la tattica Più o meno è questa Allora Vedo già gente davanti a noi Corri 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 alla sinistra Ok Li vedi Ok sì Ok perfetto Fere Un po' zigo zago Così magari ci mancano Mi hanno già colpito Ho già metà vita Fere Steph ti prego Continua a correre Allora io posso Attraverso gli alberi Li frego L'importante è correre Fere L'importante è correre L'importante è colpire Ok Steph aiuto Sono talmente piccolo Che non riesco a superare Questa montagna Mi stanno sparando Steph ti prego Mi stanno sparando Non morire Steph Tranquilla per ora son vivo Per ora son vivo Allora Li punto Boom Sono morto Dai Steph Ti prego Adesso cerchiamo di utilizzare Questi carri armati Che si chiamano tipo Caccia Carri armato Una roba del genere Quindi sono dei carri armati Fatti apposta Per cacciare gli altri carri armati Ok Quindi cattivissimi Non so cosa dovrebbe significare Ma dovrebbero essere cattivi Secondo me significano cose cattive Quindi va bene Esatto Aspetta c'è un po' di traffico Un attimo Ho notato Fere Ma c'è Deve passare Io dico Stanno andando di muore i carri armati Di queste parti Sì Dico io Allora È pieno di casette Che ci possono fare da scudo Ottimo Ottimo quello Però io vorrei nascondermi In un cespuglio Perché c'è l'ecocespuglio Ho voglia di stare in un cespuglio oggi Voglio stare In mezzo alla natura In un cespuglio Ogni volta che siamo messi in un cespuglio Siamo esplosi Guarda Aspetta Pronta Sì Boom Cosa stai facendo? Butto giù le case Ma non puoi Certo Guarda questa Guarda Vabbè Ma non è che dobbiamo distruggere tutto qua Lo vedi questo veicolo? No 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 Stef siamo in guerra qui Dobbiamo fare le cose serie Allora Vedo una persona sopra una montagna L'ho vista anch'io Infatti ti stavo per dire Ho visto uno lì in alto Allora Stai lì a mirare Mira proprio a quel punto Appena sbuca Lo colpiamo Entra la vita è morto Ok Aspetta L'ho colpito? Io ho tirato un missile Ce l'ho fatta a tirare un missile Ho consum nella mira Al 33% di vita Voglio la sua kill Vieni qua Vieni da Stef Sbuca un po' di più Boom L'hai preso Oh mio Dio Ciao bello Bravi 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 Aspetta no mi vedo No che mi vedono qua Mi sto mazzonando Io sono un attimo Credo che ci sia un altro nascosto dietro questa roccia Infatti ha provato a spararmi Aspetta lo vedi quell'absolute No 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 Dove Da dove devo ripararmi veloce Arretromarcia 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 No ti prego non morire Stiamo andando così bene Questo sbuca io lo sparo Ok Quindi è San Quentin Lea sinistra Che nomi Lo so Che nomi Lo vedi quello che sta sorreggiando dritto Sì Aia No 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 Forse muoio Forse muoio Ti prego sbloccati Non riesco a muovermi perché mi hanno ferito troppo Però sono lentissimo Ok Oddio 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 Mi sta sparando Mi sta sparando Boom Ok Mi ha vendicato E al 31% Non mi può colpire perché li sono alle spalle Ho il vantaggio di posizione Si è girato benissimo Vai 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 4% Vai grazie per avermi vendicato Prego fai Lo va Hai visto come l'ho ucciso Occhio 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 Mi hanno sparato da davanti Sì sì Quindi fai attenzione Absolute tank E ancora lui E' una guarda tra me e lui Se l'ammazzo abbiamo vinto la partita Me lo sento Dai sì sì Allora siamo in vantaggio Quindi ce la possiamo fare Siamo 12 a 6 Ce la possiamo fare Allora l'hanno appena sparato da dietro Quindi lui teoricamente si gira da quella parte E appena lui si gira Io lo miro Vai 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 Aspetta che miro al meglio E' morto E' morto Ok Ne mancano solo due Ne mancano solo due Ne siamo tantissimi Ferre Vedi qualcuno a qualche parte eh Eh aspetta 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 eh Prova a vedere dove sono Ho paura che vedranno loro a me che morirò Voglio restare in vita fino alla fine Ferre Ne manca uno Ne manca uno Abbiamo quasi vinto una partita Abbiamo vinto una partita Ce l'abbiamo fatta Voglio vedere Vittoria Voglio vedere Vittoria Fammi leggere la scritta Vittoria Che bello Ci abbiamo fatta Ci abbiamo fatta Allora fammi vedere quanti danni sono riuscita a fare con questo carro armato Ho portato a casa 1211 danni In ogni caso dai io direi che ci possiamo fermare così Mi raccomando fateci sapere se vi è piaciuto il gioco Speriamo di sì Noi ringraziamo la Wargaming per questa opportunità che è stata davvero fantastica Ovviamente ricordatevi di andare a scaricare il gioco con il link in descrizione E ci fermiamo E' un po' di carri armati anche voi Esattamente Bene ragazzi se vi riesce a dire ciao ciao Senti a giù il like E' la prima volta che avete il nostro video potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 Ciao